Tra gli aspetti che più suscitano interesse da parte di tutti coloro che ci seguono, tutti coloro che seguono Forever Bamboo, sono gli aspetti legati a questa attività, a questa attitudine, potremmo dire, infestante del bambù. Con questo video voglio cercare di spiegare un po' meglio questo concetto. Allora, innanzitutto, il bambù esiste in due macro-categorie. I bambù che hanno un comportamento a cespuglio, si chiamano Clamping Bamboo, dai bambù che hanno un apparato rizomatoso che tende a colonizzare il territorio che gli è dato disponibile, che si chiamano Running Bamboo. Quello che vedete qui attorno a me si chiama Philostachys pubesens, è il bambù gigante che noi coltiviamo e che è afferente a questa seconda tipologia, ovvero Running Bamboo. Quindi, che tutti i bambù abbiano questa tipologia, ve l'ho appena spiegato, non è così. Quelli che noi coltiviamo hanno questa caratteristica, quindi un apparato rizomatoso che tende a colonizzare. Quanto è che tende a colonizzare? Beh, insomma, potremmo dire che un rizoma potrebbe fare 50 cm all'anno. Sarebbe già un grandissimo risultato. Vuol dire che più o meno in 80 anni di vita di una foresta, la parte perimetrale potrebbe fare al massimo 40 cm. Per 80 anni, cosa fa? 8, 6, 24, 32, 32 metri di avanzamento. Questo è il massimo che, se non ci fossero contenimenti, potrebbe fare. Perché dico 80 anni? Perché il bambù, dopo 80 anni, sostanzialmente fiorisce, una piccola percentuale di questi semi torna a germinare, e quindi sostanzialmente se non ci fosse un intervento umano da una foresta morta, rinascerebbe nuovamente una foresta e da lì per altri 80 anni avremmo nuovamente una progressione di questo avanzamento. Quindi non si sta parlando che in 100 anni un bambù può colonizzare una città intera. Al massimo che può fare sono 32 metri nel bordo perimetrale. Questo è il primo passaggio. Ma questa è una foresta lasciata naturaliforme, senza l'intervento umano. Quando noi invece di Forever Bamboo parliamo delle nostre foreste, parliamo del nostro metodo di coltivazione, del nostro metodo agroforestale di coltivazione del bambù gigante in Italia, che prevede tutto un insieme di passaggi. I primi passaggi sono la gestione del terreno iniziale, la piantumazione, tutto lo sviluppo delle piante, fino a portare una pianta alta un metro a piante come queste, che oggi sono alte oltre i 12 metri. Come facciamo a contenere questa vigorosità del bambù gigante? Allora, le attività sono molteplici. La prima attività, lo vedrete tra un attimo, creare dei fossati perimetrali. Quindi, tra il bambù intanto e il fossato, noi abbiamo sempre una strada di 3-4 metri. Quindi mai e poi mai avremo il bambù a confine. Abbiamo 3-4 metri di distanza, dove passano i mezzi. Questi mezzi compattano il terreno, rendendo difficile il passaggio del rizoma. Questo è il primo passaggio. Il secondo passaggio, dopo 3-4 metri, con costanza, noi creiamo dei fossati, che possono avere una larghezza minima, con una profondità minima di 80 centimetri, ma come quello che vedete in questo momento, sono profondi circa 60 centimetri, ma larghi almeno 3 metri, e sono costantemente, nel periodo primaverile-estivo e inizio autunnale, riempiti d'acqua. Questo è un altro ostacolo. Dove c'è l'acqua, non c'è il bambù gigante, perché il bambù gigante odia i terreni saturi d'acqua. Non è una pianta acquatica, una pianta che ha bisogno di acqua nei primi periodi di vita, ma dopo non ha più necessità di acqua. Questa è una foresta che noi non irrighiamo ormai da due anni. Si prende l'acqua che scende dal cielo ed è più che sufficiente così. Quindi, 3 metri di strada perimetrale, strada battuta dai mezzi che girano attorno per la gestione e il trasporto, per esempio, delle canne che vedete qui riprese. Un canale tutto perimetrale. Perché dicevamo 60-80 centimetri? Perché lo sviluppo del rizoma, il rizoma è la radice attraverso cui si propaga il bambù, è al massimo di 30-40 centimetri dal piano campagna. Quindi il bambù non è una pianta fittonante che va giù in profondità. È una pianta che si muove superficialmente. Quindi una barriera fisica, come una strada, come un muro, come un fosso in questo caso, è sufficiente a bloccarne l'espansione. L'altro passaggio. Quando il rizoma incontra la parete del fossato, la gemma apicale, sentendo la luce, vira e diventa canna. In quel caso lì, la gestione, per esempio, del fossato, fa sì che noi vediamo tutto ciò che arriva a bordo e possiamo serenamente, con una gestione della trincia o con la gestione del decespugliatore, andare a tagliarlo tutto quanto. Un altro passaggio che noi facciamo. Le strade perimetrali sono tagliate attraverso uno strumento che si chiama Ripper, che è una lama profonda, 50 centimetri, che taglia il terreno. Normalmente si utilizza nelle lavorazioni agricole generalmente accoppiate o in numeri dispari di 3, 5 e anche più lame e servono per tagliare quella che si chiama suola di lavorazione. Ebbene, noi la usiamo per interrompere eventuali rizomi che dalla foresta si spostino verso l'esterno. Siccome il rizoma, per muoversi, ha bisogno della forza della foresta, perché è la foresta che, grazie alla sua, diciamo, attività di fotosintesi clorofiliana, ingloba energia e riesce a far progredire il rizoma, senza questa unità con la foresta, il rizoma si blocca. Non ha la forza di procedere oltre. Quindi, dicevamo, una strada di 4 metri, un fossato profondo almeno 60-80 centimetri e largo almeno 80 centimetri, il taglio della strada perimetrale. L'ultima cosa, probabilmente quella che più di ogni altra inibisce l'uscita dei rizomi verso l'esterno, è quella che vedete come differenza tra le mie spalle in questo momento e quella che tra un attimo vedrete dall'altra parte, ovvero il diradamento. Perché i bambusetti sono costretti attraverso i loro rizomi a andare a colonizzare lo spazio circostante? Perché al loro interno non c'è più aria, non c'è più spazio per far crescere nuovi germogli a primavera. E quindi, siccome lo spirito del bambusetto è quello di far crescere germogli nuovi ogni anno, non essendoci spazio all'interno, si sposta costantemente verso l'esterno. Ebbene, cosa fa Forever Bamboo ogni anno sui suoi bambusetti? Estrae, diradando, il 30% delle canne da tutta la superficie. Questo capite bene che significa che se io asporto il 30% delle canne da tutta la superficie, il bambù crea uno spazio del 30%, dove può far generare dai rizomi nuovi germogli a primavera. Come sta accadendo quest'anno, e li vedete intorno a me, sono davvero, davvero tanti. Quindi, il diradamento, che vuol dire liberare la superficie togliendo canne, per noi almeno il 30%, significa lasciare spazio alla foresta, di dedicare forti quantità di energia alla crescita del germoglio. Perché dico questo? Pensate che il germoglio, quando esce a primavera, in circa 60 giorni, è all'altezza massima prevista per la sua genetica. Vuol dire che se è una canna che deve andare su 10 metri, ebbene, in 60 giorni sarà su a 10 metri. Ora, come fa un germoglio a salire 10 metri? In 60 giorni. Lo fa solo perché tutta la massa di canne che collabora e partecipa di quel rizoma si priva in quel momento di energia per fare spingere in alto il germoglio. Tutta l'energia è rivolta a quello specifico momento, cioè la crescita del germoglio e la spinta verso l'alto. Se c'è spazio, quindi la foresta è intelligente e dirà, lì ho già una colonizzazione di miei rizomi, lì c'è spazio per far nascere nuovi germogli, lì c'è quantità di foresta già adulta che può darmi energia per spingere in alto il germoglio e farlo crescere nelle migliori condizioni. Non è interessata ad uscire. La botanica, la crescita, lo studio delle piante ci spiega che le piante sono altamente intelligenti, altamente economiche ed ecologiche, altamente ergonomiche nelle proprie scelte. Quindi in questo caso il diradamento fa sì che la foresta si concentri più al suo interno e non al suo esterno. Certo, qualche cosa potrà anche uscire, ma con i controlli che abbiamo detto prima la foresta è assolutamente tenuta a bada. Difatti, con le immagini che vedrete tra un attimo, vedrete che non esistono rizomi che siano usciti dalla strada e siano andati verso il fossato. Anche perché se ci fossero in questo periodo dell'anno con l'asciutta del canale voi vedreste il rizoma che esce e vedreste la canna uscita. Invece non ce n'è nemmeno una. Non sono nemmeno arrivate in questi anni a recuperare ovviamente i 4 metri di strada e a bucare il fossato. Questo significa per noi protocollo agroforestale di gestione di una foresta di bambù giganti in Italia da parte di Forever Bamboo. Significa attenzione a tutti questi particolari per avere la garanzia della migliore gestione di una foresta e la garanzia della migliore gestione del nostro vicinato. A domanda ma tu non sei costretto a diradare? Potresti dimenticartene? Non me ne posso dimenticare perché il protocollo di gestione è quello che consente dall'altra parte questo grande assorbimento di CO2 e quindi dall'altra parte la prima business unit di Forever Bamboo che è l'accessione di questo assorbimento alle aziende che vogliono mitigare. Quindi noi siamo legati a corda doppia alla gestione del bambusetto per favorire le migliori performance ai nostri clienti. Bene. Mi auguro di aver spiegato in maniera indelebile in maniera chiara cosa significa oggi gestire un bambusetto industriale in Italia e come noi garantiamo che questa gestione contenga la vigoria del bambù garantendo dall'altra parte ovviamente tutti i benefici che questa vigoria ci consente. Autotono versus all'octono. Allora, intanto per sgombrare il campo noi siamo immersi in specie che non sono nate e sviluppate qui in Italia. Il pomodoro non è italiano. Il mais non è italiano. Il ciliegio non è italiano. Però sono specie con le quali ormai conviviamo da generazioni e che fanno parte della nostra cultura ma non sono specie italiane che potremmo considerare autoctone. Almeno che non identifichiamo che dall'X anno indietro o dall'X anno in avanti cosa è autoctono e cos'è all'octono. Quindi liberiamo il campo quando noi ci aggiriamo per i vivaio quando noi ci aggiriamo intorno per la campagna italiana sappiate bene che una parte importante di specie e di quantità coltivate non sono specie italiane. Sicuramente tra queste una specie che deve prendere il suo posto è il bambù gigante. In Italia esiste come specie presente intorno al 1800 quando gli architetti hanno cominciato ad utilizzarlo per fare degli insediamenti interni alle ville rappresentanti un po' il mood orientale. Quindi è presente veramente almeno da 200 anni in Italia. Ora decidi tu quando una pianta diventa autoctona o quando una pianta diventa all'octona però sappi che i nostri occhi sono almeno 200 anni che vedono il bambù gigante in Italia. A prestissimo e ciao a tutti.